Se volete acquistare crediti FIFA a basso prezzo andate su FIFAUltimateTeamCoins.com E con il codice GRAN avrete il 5% di sconto Bella ragazzi, mi chiamo i Granas E siamo tornati con un nuovo episodio di questa serie Di 8G1 Quindi adesso l'obiettivo conclamato Stacca, stacca, no, rimanere inizio Rimane inizio 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 Magari, anche se la rifacciamo ci farebbe piacere comunque DROIGE TEAM Incredibile, questo si chiama Spaccacoli E' già mi sta sul cazzo come gioca Perché mi guarda, ma non lo fai Lewandowski, Lewandowski E' una bestia Lo fa No, non lo fa Mette in pausa Mandami, mandami, mandami Ciro, Ciro, mandami, Obama e Young Obama e Young, Obama e Young Lo vedi in mezzo Lewandowski La fa Obama e Young Ci va verso ieri Andrea Ramos E finalmente riescono a giocare La squadra gira, no, in realtà scassa Sì, anche quello che è Ramos è il vero problema Chi è Emeric Oh, va meglio 1, 2 Lo chiudi 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 La scuola Ma perché sei con cesi scoglioni No, ieri Finalmente c'è il tuo K spesi bene Mamma mia Finalmente un portiere decente Perché hanno messo le tecnologie nuove 9 e quindi para Questa è l'unico portiere che para Bravo, ma appena tiago la suola Suoleggia La palla per Royce La palla per Royce Oddio Che cazzo 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 Non era per lui Fate Arbeitsigemary Ti metti sempre in mezzo E leva te E mi so levato Mortacci No, ok Ho sbagliato Titi 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 Ciccicci Cicceriva Ben do meno Fa qua Qua Cioè Si scambia il giocatore da solo Ma perché Mamma mia Royce Tanto leva Leva Ti rileva di tono Guarda come ti rileva di tono Guarda come E solemn Questa è po' Da rosicare Perché stava rosicare nuova per mano rosso dai no ma che è e vabbè rilevi e non è certo nuova punizione ma quali quadrati ma questa popola di un'ampo si vabbè quadrati ah 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 non c'è vero che non so come già non si è preso rosso e mancano segnato e ancora levandosky levandosky è scatenato levandosky levandosky perchè va dritto così io non volevo fa quello perchè è levandosky non è nei mar cioè è normale che va dritto dai c'è l'instagram trancialo uh porco che cazzo è successo non c'è posso non c'è posso no io devo capire che cazzo ah ah uno è fallo sul portiere quando è così però vabbè sono sapazzita sapazzita non mi frega un cazzo dobbiamo vincitola si ma io vorrei capire chi è quello che è De Bruyne no era Nero non era De Bruyne eccolo è lui ciruzzo con lo stop più bello della strada del calcio è lo stop più bello del mondo che fino a mio tempo vabbè uno a uno fino a mio tempo ci sta comunque c'è in realtà no perchè non ha fatto un cazzo questo però ho deciso un altro impallo oddio giro oddio giro il partito oddio giro oddio giro oddio giro va un po' più giù mamma mia che palle oddio fallo fa un saiga madonna mia mannaggia oh sta partiamo ha vinta a tutti i costi c'è poi non c'è stanno storie bello bello le fallo ti prego non fa cazzare eh mamma mia mamma mia che bestia vai così uuuuh 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 .